un saluto a tutti i ragazzi e le ragazze di classe terza eccoci qua a chiudere il nostro programma di arte di quest'anno di storia dell'arte e andiamo ad esplorare un argomento che di solito interessa ai ragazzi abbastanza che è quello della street art o graffitismo e bando alle ciance andiamo subito a vedere che cos'è questa street art e ci facciamo accompagnare dalla solita presentazione ecco qua qualcosa di introduttivo sulla street art per esempio giusto il titolo l'arte per strada possiamo sicuramente dire che la street art sia una forma d'arte che è fatta per tutti e per essere percepita da tutti quindi in questo senso non è pensata assolutamente per un pubblico specialistico anzi al contrario è pensata proprio per tutti dagli esperti d'arte fino che ne so al carrozziere al meccanico l'esperto fino alla persona più semplice è una forma d'arte che quindi vuole parlare a tutti e sicuramente in questo senso ha un punto in comune molto importante con la pop art che come ricorderete è una forma d'arte che è appunto destinata a tutti e c'è anche un punto di contatto grande con il futurismo perché cosa diceva il futurismo il futurismo diceva che l'arte non va fatta nei musei non va fatta nei musei una lezione ben chiara a tutti gli street artist cioè uscire per strada mostrare la propria arte a tutti uscendo da musei accademia e quant'altro ecco qua avete una mappa un po un po in inglese una mappa un matta ma è diciamo così interessante mi è piaciuta perché era già un po un graffito anche questa mappa no ecco la street art coinvolge tantissime forme espressive perché non è limitata a solo alle immagini sui muri ma coinvolge anche la musica e coinvolge tanti piani diversi adesso questo naturalmente non è una mappa che voi dovete imparare a memoria era solo diciamo uno spunto per fare due chiacchiere su i punti salienti della street art ecco i punti salienti della street art sono possiamo sicuramente dire che mentre per le altre forme d'arte che vi ho mostrato fino adesso avete visto delle facce ecco che qui ci ritroviamo una giacca un giaccone di jeans senza un volto dentro cioè gli street artist di solito sono anonimi sono anonimi non sono conosciuti e perché non sono conosciuti non sono conosciuti perché diciamo così che dipingere i muri dipingere sui muri dipingere creare graffiti sui muri è qualcosa di illegale e quindi essendo illegale si va incontro delle multe o addirittura in alcuni casi anche all'arresto quindi gli street artist devono rimanere anonimi non devono farsi riconoscere poi naturalmente alcuni di questi diventati famosi sappiamo chi sono altri invece di altri invece non conosciamo non conosciamo nemmeno l'identità come è il caso di bank si bank si è uno dei più famosi street artist ed è uno dei due artisti di cui parleremo e a destra avete una sua opera molto recente molto recente perché è un'opera che è stata creata se non sbaglio nel 2019 addirittura nel 2020 scusate a un attimo di comunque un'opera che ha meno di un anno ed è un'opera che è stata creata a venezia infatti vedete il canale che passa proprio ai piedi della 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 figura che ha dipinto bank si cosa ha dipinto ha dipinto questa ragazzina che tiene in mano un fumogeno e i fumogeni servono ai migranti sulle barche per segnalare la loro presenza quando sono in mare e stanno rischiando la loro vita ecco lui ha costruito questa cosa con la solita grande intelligenza che caratterizza questo artista di cui ho avuto anche la fortuna di vedere una grande grande mostra a milano molto molto bella eccolo ha messo sul bordo del canale ha messo questa ragazzina sul bordo del canale quando c'era l'acqua alta quindi sapete che a venezia nei canali l'acqua si alza e si bassa con l'acqua alta questa ragazzina è finita anche sott'acqua ecco finita sott'acqua quindi richiama a tutte le morti le morti dei migranti nel mare ecco questo per dirci che la street art è assolutamente una forma di espressione che si richiama anche alla politica cioè che ci vuole raccontare politicamente la realtà e questo lo lega anche a una forma d'arte che abbiamo visto nell'ottocento che era il realismo cioè denunciare denunciare ecco la propria arte delle condizioni sociali sfavorevoli quindi se io chiedo a qualcuno che fa realismo qual è una forma d'arte contemporanea che si ispira che si ispira al realismo anche i giorni nostri sicuramente la street art è una risposta giusta sicuramente la street art è una risposta giusta andiamo un po a vedere quali sono i punti salienti della street art mentre nell'illustrazione a sinistra vedete l'altro artista di cui parleremo che è chitaring chitaring due cose su di lui le diremo dopo ma accenno accenno alcuni aspetti di chitaring che fra l'altro interessano in particolare gli studenti che affrontano il tema delle discriminazioni discriminazioni in questo caso legate all'omosessualità perché vedete che abbiamo queste figurine col simbolo del maschio della femmina che si intrecciano a livello della testa ecco il maschio con il maschio e una femmina con un'altra femmina a dirci che diciamo così chitaring che è stato un artista omosessuale esprimeva anche nella sua arte ecco la il bisogno della comunità gay e lesbica di di avere giustizia sociale ecco questa immagine molto bella vedete molto semplice che non ha bisogno di di nessun tipo di conoscenza e che già esprime la tolleranza la tolleranza verso diciamo così quello che è quelli che sono gli omosessuali allora cosa possiamo dire della street art qual è una definizione che definizione possiamo dare sicuramente la forma d'arte legata ai giovani e sicuramente è una forma artistica che compare in degli spazi pubblici in generale questi spazi pubblici non vengono chiesti da questi artisti ma se li prendono ed è per questo che diventa illegale dobbiamo dire che col passare degli anni questa forma d'arte da essere valutata esclusivamente come una forma di vandalismo è diventata invece qualcosa che oggi consideriamo a tutti gli effetti come una forma d'arte completa allora naturalmente ci sono nelle grandi città sono stati costruiti anche degli spazi appositi dove gli street artist possono andare legalmente quindi possono fare delle loro i loro dipinti senza rischiare di essere perseguiti però in generale è una forma d'arte illegale ed è per questo che molti di questi artisti restano anonimi però vedete che qui nel caso di chitaring conosciamo nome e cognome dell'artista ecco sicuramente la pop art sta sta alla base della street art è perché questa di avere dei disegni semplici che possono fare tutti e che possono essere capiti da tutti dice dice come come sia una forma d'arte semplice e la portata di tutti ecco quindi c'è sicuramente un'ispirazione alla pop art diversamente dalla pop art la street art viene fatta proprio per strada quindi è per tutti e si può dire anche che mentre la pop art come dire il quadro di andy warlord famoso artista pop art è un quadro suo di sua proprietà e lui lo vende e diciamo così lo regala ci fa quel che vuole ma a partire da lui che ne è il proprietario quando io vado a fare un disegno sul muro e non diventa più complessa la cosa perché se sicuramente io sono l'ideatore creativo non posso dire che sia mio tant'è che cosa succede spesso come è accaduto a napoli per esempio per bank si qualcuno può andare a disegnare sopra un mio disegno perché quando io faccio le cose per strada quando faccio le cose per strada chiaramente chiunque può andare a mettere le mani sulla mia opera e chiunque se ne può anche appropriare tanto che maxi adesso che famosissimo spesso fa le sue opere non so sui muri di orfanotrofi di di diciamo di tutte quelle strutture che hanno bisogno di soldi e in questo modo le finanzia perché dopo loro cosa fanno staccano il suo il suo murale sul suo dipinto e lo vendono guadagnando molti soldi quindi ecco per alcuni di questi artisti è diventata anche una forma come dire di donazione realizzare le loro opere realizzare le loro opere su su dei muri ecco qui a fianco vedete un'immagine strana che sembra cosa un disegno di un libro per favole e invece è l'ultima proprio l'ultima di questi giorni opera di bank si e vedete che è un richiamo è un richiamo chiaro al covid all'epidemia che ci sta tenendo tutti inchiodati in casa abbiamo questo bambino che gioca col suo cesto di dove dentro ci sono anche un batman e un uomo ragno gioca con dei pupazzi e di tutti i pupazzi che nel suo cesto cosa preferisce preferisce un pupazzo una bambola che rappresenta un'infermiera quindi in questo senso un messaggio chiaro noi nostri supereroi sono persone di tutti i giorni che sono i nostri supereroi sono medici e infermiere che purtroppo in italia hanno dato anche la loro vita per guarire e per servare dei pazienti quando è che inizia questa storia della street art e siamo al punto 4 inizia negli anni 70 a new york quindi ecco vedete che la capitale la capitale dell'arte non è più parigi ma new york inizia new york e va avanti anche i nostri giorni appunto con artisti come bank si attenzione che la street art non nasce solo come pittura ma nasce come fenomeno interdisciplinare cioè cosa vuol dire sta roba cosa vuol dire sto parolone vuol dire che è una forma d'arte che coinvolge non solo le arti figurative la pittura ma coinvolge anche la musica per esempio coinvolge anche la danza ecco quindi forme d'arte diverse in che senso coinvolge la musica e la danza la street art nasce anche con quel fenomeno che è il rap e nasce nei ghetti neri cioè nasce là dove c'era la volontà di ribellarsi per esempio al razzismo ad essere messi e chiusi da parte in un ghetto e quindi come il rap esprime questa questa forza contro il razzismo contro contro diciamo la segregazione parallelamente nasce la street art e anche oltre la street art nasce una forma di danza che è la break dance e hip hop ecco spesso si faceva si organizzano degli happening delle feste dove c'erano gli street artist che ripingevano sui muri intanto c'erano dei dj che facevano hip hop c'era dei rapper che rappavano i loro testi sopra le basi e naturalmente c'erano dei danzatori che facevano la danza hip hop o break dance ecco quindi se io vi chiedo anche questa può essere una domanda una domanda che vi posso fare ecco la street art è una forma d'arte che nasce comunione anche con altre forme d'arte con la come il rap e come la break dance abbiamo detto appunto di questo aspetto che si tratta di un'arte come dire che si sviluppa in spazi pubblici illegalmente quello che è interessante è sicuramente per una forma d'arte molto legata all'attualità lo vedete da questa figura che ci parla direttamente dell'epidemia che stiamo vivendo e quindi è una forma d'arte che può dirci qualcosa in diretta di quello che accade ecco vi ho messo questa immagine che potrebbe essere un muro per esempio qui a regia miglia ci sono effettivamente dei luoghi di questo tipo ecco vedete come la street art è qualcosa che colora gli spazi qui vedete i cassonetti e anche si sovrappongono i disegni di tantissimi di tantissimi di questi artisti ecco qui vedete prevalentemente scusate vedete prevalentemente queste forme queste scritte creative che vengono fatte questo lettering e diciamo che a volte purtroppo la street art diventa anche vandalismo quindi bisogna sapere un po' distinguere fra quando si fa arte e quando invece si va a scrivere un insunto sul muro ecco quella non è street art quello vandalismo e diciamo che fare questa distinzione è semplice e difficile allo stesso tempo nel senso che voglio dire dare un valore artistico a degli scarabocchi come questi sui cassonetti forse anche no e al contempo però abbiamo effettivamente degli artisti che hanno fatto disegni molto ma molto importanti e molto belli tant'è che siamo al punto 6 interi quartieri degradati come le periferie gli street artist preferiscono andare nelle zone più povere della città sono stati proprio riqualificati sono stati resi più belli grazie anche dei grandissimi murales pensate dei palazzoni molto brutti della periferia che vengono decorati e fatti vedere nella loro bellezza abbiamo detto che il movimento inizia new york con alcuni dei nomi che vedete qui linkati noi ci fermiamo su chitaring ci fermiamo su chitaring per questo suo lo riconoscerete perché molti secondo me molti di voi lo riconoscerà lo riconosceranno è questo artista che dipingeva omini con questi acrilici pitture l'acrilico è una pittura molto vivace ecco vedete questi sfondi con i colori puri giallo rosso blu costruiva queste figure che sono evidentemente ispirate al mondo dei fumetti mentre l'altro artista che andiamo a fare sarà poi bank si ecco entriamo nel mondo di chitaring ecco anche questo è un mondo dove la politica è importante e per tutti quelli che sono interessati al tema del razzismo e della diciamo così del mancato rispetto dei diritti delle minoranze abbiamo qui proprio due belli esempi a destra un esempio molto chiaro direi di un quadro contro il razzismo dove vedete che questo questo grande uomo nero che viene tenuto al guinzaglio dall'uomo bianco lo caccia con un calcio nel sidere proprio letteralmente e vedete proprio la caratteristica forma d'arte di di a ring che è una forma d'arte ispirata al fumetto proprio come era quella di robert lichenstein ma di diversamente da lui è una forma d'arte a cui a ring dà un taglio fortemente politico cioè vuole esprimere dei concetti di tipo politico e sociale a sinistra invece vedete due uomini che si abbracciano evidentemente che si 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 vogliono bene si amano e anche qui uno dei temi ricorrenti nell'arte di di chitaring che era omosessuale e quindi e purtroppo è morto di aiz che negli anni 80 era una malattia diffusa anche nella comunità omosessuale non oggi fortunatamente vedete che ci mostra con questo quadro con molta semplicità ci fa capire il razzismo e diciamo diciamo anche il tema dell'omosessualità con molta chiarezza proprio molto diretto vedete come la street art non ha bisogno di tanti ragioni di tanti ragionamenti ecco vi mostro di a ring anche due un'opera sinistra che secondo me avete visto su molte magliette opera molto carina con questo cuore con questi due piccoli uomini sotto che che danzano che lo reggono quindi che diciamo una specie di inno all'amore molto 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 bello questo disegno molto semplice vedete anche come questi artisti si ispirano all'arte si ispirano per la loro arte ai disegni dei bambini alla semplicità dei disegni dei bambini a ringa dipinto anche in italia fra l'altro a pisa trovate anche questo è fondamentale quando ascoltate una video lezione non dovete limitarvi alla sola video lezione ma dovete andare anche sul sito sul sito e sul sito naturalmente c'è la street art e ci sono dei contenuti dei contenuti importanti che io non tratto nella video lezione che dovete andare a vedere sul sito a destra invece abbiamo un'opera che è interessante molto interessante triangolo rosa ecco tutte queste opere in generale vedete che io vi ho messo l'autore ma non vi ho messo il titolo per quanto riguarda ring spesso erano dei dipinti degli acrilici su tela però spesso senza titolo c'è uno street artist non lascia il titolo dell'opera come gli artisti che eravamo abituati a conoscere e a frequentare in precedenza mette semplicemente l'opera e l'opera parla da sola senza bisogno di avere un titolo allora cosa il triangolo rosa durante il nazismo non solo si metteva la stella gialla che era il simbolo degli ebrei ma nei campi di concentramento sono finiti anche gli zingari sono finiti appunto gli ebrei e tra gli altri anche gli omosessuali anche gli omosessuali sono stati purtroppo mandati ad auschwitz nei campi di concentramento dove ne sono stati uccisi tantissimi e agli omosessuali si metteva questa questo triangolo rosa sui vestiti è naturalmente molto infamante come come tutto quello che facevano i nazisti ecco nel quadro ci sono tanti vedete tanti di questi uomini che piangono hanno le mani sugli occhi piangono nel triangolo rosa sta proprio a manifestare questa segregazione questo odio verso gli omosessuali che ha avuto un suo apice durante la seconda guerra mondiale sia sempre il tema del superamento delle discriminazioni attraverso la loro denuncia prima abbiamo visto razzismo adesso qui vediamo la persecuzione degli omosessuali ecco dei temi caratteristici di haring che è sempre stato molto impegnato politicamente per esempio contro la droga contro l'uso delle sostanze stupefacenti ha fatto dei graffiti importanti in giro nei quartieri più malfamati di new york sempre impegnato per i diritti per i diritti degli ultimi quindi questo è un aspetto molto bello molto bello della sua opera eccoci qua con degli orologi voi direte cosa c'entra la street art con gli orologi siamo nelle arti applicate siamo nelle arti applicate che molti di questi artisti frequentano kitaring in particolare in particolare ovviamente il legame fra kitaring e le arti applicate questi sono orologi della swatch c'è un'intera collezione che ha disegnato kitaring e quindi ve la faccio vedere non si è limitato agli swatch kitaring era convinto che l'arte dovesse finire ed essere finire dappertutto ed essere alla portata di tutti per cui per esempio torno indietro questo disegno col cuore voi lo trovate su tantissime magliette lui infatti aveva aperto tutta una serie di negozi una catena di negozi dove vendeva magliette gadget che pensava lui e li vendeva a poco prezzo non andava a comprarsi una maglietta con un disegno di kitaring la pagava a poco e magari si faceva fare anche un autografo sulla maglietta che adesso vale un monte di soldi e quindi c'è troviamo le sue opere non solo nei qua non solo su quadri acrilici su tela per lo più dentro le gallerie ma troviamo troviamo diciamo le sue opere anche le troviamo anche nelle arti applicate su magliette su cappellini su spilline e e come vi facevo vedere prima anche su degli orologi che erano acquistabili a dei prezzi abbordabili quindi come dire l'arte applicata l'arte con l'idea di arte applicata che abbiamo visto per la prima volta con i futuristi e che ha delle radici profonde nella storia dell'arte cioè non pensare con il design per il liberty non pensare l'arte come qualcosa che finisce solo sui quadri sulle sculture sui vostri rilievi eccetera ma come qualcosa che finisce anche negli oggetti industriali e che può essere la portata di tutti perché no perché anche su una maglietta con qualcosa che a me devo dire che piace molto ecco qui qui andiamo a andiamo da un'altra parte andiamo con questo artista mentre chitaring vive e nasce diciamo così negli anni settanta e vive la sua vita negli anni ottanta con come artista diventa maturo negli anni ottanta purtroppo muore giovane di aids con banks e abbiamo un artista che è attivo ai giorni nostri quindi a tutti gli effetti con la street art parliamo di arte contemporanea vivo vivente ci sono varie ipotesi sulla sua identità è passato anche da reggio emilia quindi da fra l'altro è passato a contatto con amici miei e quindi ci sono delle idee abbastanza precise sulla sua identità ma diciamo che ancora ufficialmente non è stato detto chi è qui vedete una delle sue opere più famose come con a ring abbiamo gli omini che tengono i cuori qui abbiamo la bambina col palloncino forse il suo uno dei suoi disegni più famosi diversamente da ring che dipingeva pennello guardate come invece il nostro bank si usa la tecnica dello stencil ecco quindi lo stencil è quella cosa che si fa facendo ritagliando del cartone e poi appoggiandolo con dello scotch al muro e poi via con lo spray e quindi il grosso del lavoro lo si fa a casa dove si preparano tutti i cartoni poi si va fuori si mettono si attaccano i cartoni contro il muro e poi si va via con lo spray e in pochi minuti l'opera compare e l'artista può fare il suo lavoro in poco tempo senza incappare nella polizia per esempio invece l'artista che abbiamo visto prima chitaring che ha iniziato a disegnare nella metropolitana c'è sto parlando di questo che ha fatto gli orologi naturalmente quello che abbiamo appena visto torno un attimo indietro a chitaring quando faceva i suoi disegni nella metropolitana un paio di volte è stato arrestato dalla polizia perché era illegale fare quello che faceva a ring bank si al contrario non è mai stato il nostro bank si non è mai stato arrestato quindi non ne conosciamo l'identità ecco su questo adesso vi farò vedere un video tanto anche per sperimentare un po qualcosa di nuovo no in queste presentazioni naturalmente voi sentirete male e in sottofondo l'audio uscire da uscire dalle dalle micro casse del mio computer il video lo potete vedere e vi consiglio fortemente di vederlo sul sito perché la musica è fondamentale in questo lavoro mentre io qui più che altro vi racconterò un po parlerò dico vi racconterò un po cos'è questo video e di cosa parla allora usciamo un attimo dalla presentazione eccoci qua e vediamo un po questo video faccio un po silenzio si parla della guerra in siria ovviamente e come vedete è un'animazione grazie a tutti ecco blocchiamo l'immagine su questo su questa in pausa il video su questo punto vedete che ci sono questi personaggi questa animazione che riprende proprio alcuni dei personaggi di banks in questo caso due bambini sempre il tema dei pal dei palloncini che portano questi personaggi in cielo naturalmente il messaggio è molto ambiguo perché quando uno va in cielo di solito si dice non è andato in cielo vuol dire che è morto quindi tutti questi che salgono al cielo da un lato trovano la salvezza no nel senso che la bambina e il bambino vedete che la bambina piange poi sorride al bambino durante il video ma non si capisce se sia una via d'uscita dalla guerra o se sia una via d'uscita dalla vita ecco quindi un messaggio messaggio ambigo messaggio un video tutto sommato piuttosto triste per cosa è stato fatto è stato fatto per una ong che si chiama oxfam per naturalmente cercare di finanziare di finanziare esco dal video cercare di finanziare delle attività raccogliere dei fondi dei soldi per la guerra in siria in medio oriente è stato molto attivo banksi molto importante la sua attività la sua attività di artista in in medio oriente è fondamentale ecco abbiamo visto un pezzettino del video vi raccomando mi raccomando di andare sul sito guardarlo quando si parla di impegno politico eccoci qua a vedere l'opera che per il natale scorso il natale 2019 banksi ha dipinto nella sua città bristol cos'è beh lo vedete una panchina con delle renne quindi babbo natale l'idea di babbo natale solo che sulla panchina c'è un berbone quando l'opera è stata diciamo così inaugurata maxi naturalmente non c'era sulla panchina c'era un famoso attore spagnolo che si chiama xavier bardem che faceva naturalmente interpretava il barbone un'opera molto bella molto semplice che ci vuole sensibilizzare naturalmente sui sui omelettes sulle persone senza 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 casa vedete come la street art sa essere molto immediata è uno stessi un paio di stessi con due renne un po di spray e in pochi passaggi si realizza un'opera che comunque racconta molto e che vedete pur usando su in questo caso un piano fantastico il babbo natale eccetera ha qualcosa sempre che fare con realismo cioè con la denuncia delle condizioni delle difficili condizioni in cui vivono molte persone a dire per chi fa realismo come per esempio alcuni miei allievi portano all'esame che come per gli spacca pietre di courbet quindi andiamo nel secolo precedente anzi due secoli fa andiamo nell'ottocento perché adesso siamo nel ventunesimo andiamo nel diciannovesimo secolo c'è una denuncia una denuncia contro in questo caso la povertà altra opera ecco un aspetto siccome vi ho fatto vedere qualcosa di drammatico prima vedete qui questa guardia reale su quelle di fronte a buckingham palace che fa la pipì contro un muro ecco queste queste invece naturalmente tutto disegnato no tutto fatto spray ecco bank si ama anche molto l'ironia quindi spesso dipende dipinge di queste dipinge queste opere molto divertenti molto irriverenti no con le guardie della regina che fa la pipì contro il muro o anche diciamo così sempre che fanno pensare ma che sono che sono diciamo così comunque ironiche come questo che dovrebbe essere un teppista che invece che lanciare sassi o bottiglie molotov lancia lancia mazzi di fiori perché questo vuole essere chiaramente un messaggio pacifista un messaggio che vuole andare contro la violenza era mettete dei fiori nei vostri cannoni c'era una canzone 60 mettete dei fiori nei vostri cannoni cioè per dire che i fiori sono sempre un simbolo di pace un simbolo che vuole essere vuole essere contrario alla violenza qui c'è anche l'omino con la criola così ci dà un'idea di come sia grande quest'opera dipinta quindi abbiamo sostanzialmente sostanzialmente analizzato questi due artisti naturalmente bank si non fa solo dei murales con gli stencil fa tante altre cose ha fatto anche delle installazioni e tutto questo lo trovate sul sito come trovate dei video che vi raccontano in particolari questi artisti quindi ripeto per prepararsi la verifica su prepararsi la verifica su street art e pop art dovete andare anche sul sito abbiamo visto due artisti che sono appunto due street artist bank si e chitaring ripercorriamo rapidamente all'indietro la presentazione come facciamo sempre le opere di questi due artisti molto interessante anche lavoro di maxi sul mercato dell'arte per esempio mi avevo raccontato di come lui abbia dato alcuni suoi disegni da vendere a un vecchietto in una bancarella per pochi soldi e poi li abbia autenticati dopo che la gente li aveva comprati per 10 20 euro questa gente si è trovata in casa dei disegni che valgono migliaia 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 di euro se non perché è un artista quotatissimo quindi lui gioca anche con quel significato che viene dato all'arte e anche al suo valore economico abbiamo parlato di arti applicate invece per l'altro artista che era chitaring perché abbiamo visto gli orologi però abbiamo detto che aveva dei negozi dove faceva dove vendeva le magliette dove vendeva i capellini dove vendeva le spilline aveva dipinto anche un negozio che io ho avuto la fortuna di vedere adesso purtroppo non c'è più era dietro il duomo di milano un negozio di fiorucci era tutto dipinto all'interno da chi da chitaring invece un'opera di chitaring che potete vedere ancora oggi per strada è a pisa dove ha dipinto un edificio un ex monastero dipinto questo ex monastero che è stato bombardato durante la guerra quindi è una parete completamente cieca tutta dipinta da chitaring abbiamo detto che chitaring è un artista che combatte le discriminazioni razziali o di genere cioè contro gli malsessuali e diciamo così la comunità omosessuale e lesbica abbiamo visto i punti di quest'arte abbiamo detto di che nata new york abbiamo detto che nata nei ghetti abbiamo detto che è un'arte che è caratterizzata diciamo dal non essere legale proprio perché dipingere su muri privati è un reato e quindi molti di questi artisti sono anonimi abbiamo però anche detto che una forma d'arte che è nata insieme a in sinergia con altre forme espressive cioè cosa abbiamo detto che quando c'erano gli street artist c'erano anche i rapper c'erano anche i dj e c'erano anche i ballerini di hip hop break dance quindi qualcosa che abbraccia varie forme espressive abbiamo detto che una forma d'arte che sa arrivare sulla contemporaneità abbiamo parlato del problema del vandalismo cioè nel senso che attenzione la street art però a volte diventa vandalismo diventa un non rispettare diciamo il decoro urbano o andare a imbrattare invece chiaramente fare un murale sulla corte o sul municipio di rubiera che sono due edifici storici significa fare vandalismo cioè andare con lo spray su un ponte romano su e vandalismo non a caso spesso gli street artist più consapevoli lavorano in edifici abbandonati per esempio qui a reggio emilia alle reggiane che sono queste queste ex fabbriche era era completamente coperta era diventato un luogo dove andavano gli street artist ma lì aveva senso perché un edificio abbandonato invece vado a fare dello spray su un edificio storico sono un vandalo ed è giusto che se vengo colto se vengo scoperto diciamo da dai vigili è giusto che io sia multato e perseguito eccetera chiaro ecco abbiamo detto che la forma d'arte che arriva subito alla realtà la contemporaneità e abbiamo parlato di questa che è proprio l'ultima opera di bank si dedicata agli infermieri ai medici che hanno salvato tante vite umane spesso purtroppo perdendo la loro abbiamo parlato ecco della lotta alla discriminazione della comunità gay e lesbica attraverso i lavori di che tari e abbiamo parlato di questo discorso dell'anno animato e vedete qui un'opera sempre di maxi fatta venezia maxi ama molto viaggiare quindi le sue opere compaiono dappertutto in italia sono comparse a venezia ea napoli una napoli andata perduta perché naturalmente quando faccio disegni per strada la gente ci poccia sopra e come vedete anche a venezia l'acqua non penso che permetterà una lunga conservazione di questo lavoro di maxi ma per loro non è importante che le opere durino in eterno ma è importante come dire che nell'immediato si parli del problema che vogliono denunciare e abbiamo visto come quest'opera invece sia un'opera non stupida che denuncia i molti morti in mare molti migranti morti in mare ecco direi che questo è tutto per questa video lezione sulla street art voi seguite naturalmente questo questa video lezione seguite questa video lezione quando ci sono i punti potete fare bloccare lo schermo e leggerli con calma una letta questi punti facendo semplicemente un blocco dello schermo ma è fondamentale andare a naturalmente a studiare anche sul sito vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo presto un saluto a tutti